Ciao e benvenuto in questo video dove andremo ad analizzare la Wheeler Zero SLR che è detta anche da molti la bici dell'anno. Il suo segno distintivo è la leggerezza. Il telaio pesa 780 grammi in taglia M abbinato ad una forcella di 340 grammi. La bici lanciata Wheeler è una super leggera con freno a disco. Per ottenere questo peso però Wheeler ha dovuto usare materiali di primissima qualità, i migliori che abbia mai usato e li ha integrati con altri componenti specifici come un reggisella leggerissimo viene fissato al telaio tramite un expander alloggiato all'interno del tubo orizzontale e l'altro componente leggerissimo è il manubrio integrato chiamato zero in carbonio che ha un peso nella taglia 100x42 di 330 grammi. Il manubrio è disponibile in 5 taglie. All'interno del manubrio tutti i cavi sono integrati proprio come anche il telaio. Per rendere possibile questo però si è dovuto re-ingegnerizzare ed evolvere il manubrio integrato, i distanziali del manubrio e anche la sezione del tubo sterzo del telaio. Abbiamo detto che questo manubrio ha tutti i cavi integrati come il telaio. Il telaio non c'è neanche un filo che è a vista. Oltre al carbonio è stato aggiunto un altro materiale il liquid clissus polymer che ha la funzione di migliorare l'assorbimento delle vibrazioni e aumentare la robustezza in caso di urto. Il rapporto rigidità leggerezza è aumentato grazie alla sezione dei tubi che sono diversi per ciascuna taglia. Quindi ogni taglia ha il suo tubo. Questo garantisce ad ogni misura il comportamento della bici che sia sempre lo stesso. Le bici sono principalmente vendute con ruote wheeler che sono state progettate apposta per questo modello. Fino a prima wheeler non produceva ruote. Ci sono anche altri marchi di ruote in base al tipo di configurazione che si sceglie. Vengono consegnate con delle selle Italia SRL boost carbon kit. La wheeler 0 SLR è disponibile in quattro colorazioni blu, rosso, nero e la colorazione teamastana. Questo modello lo possiamo trovare solo con un gruppo elettronico e solo con freni a disco. Questo proprio perché wheeler ha voluto fare un modello solo di alta gamma e con l'opzione solo di freni a disco. Proprio per portarsi verso il futuro. Il suo prezzo parte dai 7.700 euro equipaggiata con un Ultega D2 o un SRAM Force. Sopra si alzano solo i prezzi. La mia opinione rispetto a questa wheeler 0 SLR è che è una bici molto leggera e molto aerodinamica, quindi adatta a tutti i terreni. Abbiamo già visto come si è comportata anche nelle prime corse di questo 2020 e nelle corse di fine 2019. Spero che questo video ti sia piaciuto e spero che queste informazioni ti siano state utile. Se questa è la bici che vorrei acquistare condividi questo video e farlo vedere anche ai tuoi amici e ti aspetto al prossimo. Ciao!